buongiorno dottore palazzolo procediamo con l'appello per la commissione odierta anche se diciamo adesso sembra scontato se procede con l'appello comunale buongiorno seduta nella sesta commissione conciliare al comune di palermo numero 1018 del 2 dicembre 2021 procedo con l'appello dei consiglieri anello canto è assente gelardo è presente presente scarpinato è assente zacco è assente per il mercante numero regale la seduta grazie una buona giornata